Da parte nostra non c'è stato chiesto niente, non abbiamo detto niente, tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile, quindi è importante Balotelli, è importante Chiellini, è importante Soriano, è importante Buffon, a seconda della situazione se tutti ci mettiamo a disposizione degli altri. Nessuno è indispensabile o più importante di altri. Non c'era niente da decuscire, alla fine il Mondiale abbiamo deciso di metterci tutti una pietra sopra, ma in generale non sto parlando di Mario, ma proprio sappiamo che purtroppo è andata male, però è iniziato un nuovo ciclo, bisogna ripartire a zerare quanto è successo in precedenza, cercando di tenere quella voglia di rivincita che ci deve servire per affrontare questo biegno con ancora più voglia di far bene. Siamo sicuramente partiti bene nei primi due mesi, adesso credo che domenica ci aspetti la partita più difficile, è anche una partita, il primo test decisivo alla fine di questo girone contro comunque la squadra più forte del girone insieme a noi. Sono giocatori di grandissima qualità, una scuola calcistica piena di talenti che è cresciuta tanto in questi anni e quindi c'è grande rispetto per una sfida che sicuramente andrà giocata al 100% e sperare di vincere.